Il Comitato Clinico Scientifico ha le prese con l'organizzazione e la gestione di un importante convegno ma anche tanto colore e tanto calore nel Villaggio della Salute che vi ha accolto al vostro arrivo a Matera. Un bel segno in vista della giornata che ci attende domani. Assolutamente, è un segno bellissimo perché lo scenario è veramente molto invitante sia come coreografia del castello che ci sta dietro ma come vivacità delle attività che si sono svolte e che si svolgeranno in questo contesto prima di domani. La parte scientifica è sempre molto importante perché avvicinare le donne in questo contesto cioè non in una sede medicale, non in una sede asettica come quella dei congressi ma laddove si pensa praticamente alle attività pratiche, fisiche, a quello che fa bene alla salute è importante perché si possono recepire meglio certi messaggi e qui è stato organizzato in maniera molto accurata in modo che la mattina ha avuto luogo più la sessione strettamente scientifica di aggiornamento sui temi dell'avanzamento della diagnosi e della cura e il pomeriggio sarà più dedicato agli stili di vita, che cosa dobbiamo sapere, che cosa dobbiamo fare per stare meglio a partire dalle piccole attività quotidiane quindi un 360 gradi di interesse per tutte le donne e quelle che non lo sanno lo sappiano e così verranno oggi pomeriggio. C'è anche grande attenzione in vista del giorno clou, quello della race che è un po' il momento culminante di tante attività che legano volontari, medici, operatori che comunque si stringono intorno a una causa sempre più importante e sentita Sì, vi aspettiamo tutti domani in occasione proprio di quella che non è una gara è una gara di solidarietà per partecipare e celebrare le donne che si sono scontrate e si scontrano con questa malattia ma che hanno voglia di far vedere che il ritorno alla normalità è possibile Noi sappiamo che ormai sono 56.000 nuovi casi di tumore all'anno e quasi 13.000 non ce la fanno ma sono più di 850.000, dico queste cifre perché sono importanti, le donne che vivono in Italia avendo ricevuto questa diagnosi, quindi vuol dire che è un grosso numero per cui noi ci diamo da fare come medici, ci diamo da fare come volontari ed essere presenti per celebrare in solidarietà questa situazione che non deve essere considerata più assolutamente il male incurabile deve essere considerata qualcosa che si può vincere e affrontare soprattutto ritornando a una normalità e lo facciamo tutti insieme domani Salutarei!